Eccoci pronti via, noi ci siamo e voi ci siete, io spero proprio di sì che vi siate ricordati di sintonizzarvi sul vostro cellulare, sul vostro trabet, sul vostro pc di casa, di mettervi in streaming su www.casalotto.it ed eccoci ancora qua insieme in questo bello pomeriggio, un pomeriggio ricco, intenso, perché insomma è giovedì, è comunque serata di estrazione e allora attenzione a questo bello pomeriggio ricco di ultimi preziosi consigli, ve li dà e ve li regala naturalmente i nostri esperti Lio e Marco, ma per la precisione oggi sono in piacere la compagnia di Lio, buongiorno e ben ritrovato! Ciao, c'è la foto o è di carnagione scura il personaggio? È un cioccolatino, dai, è un cioccolatino, sembrerebbe, però davvero che è un attore, mi chiedete se è italiano? Non è italiano, quindi è un attore straniero, un attore a mio parere molto bravo, ha fatto tanti film e anche un bel, insomma, un bell'uomo, come ti visto anche in foto, tutti i giorni, anche se, scusate, mi sta dando via la voce. Tutti i giorni, no, assolutamente. Ma chissà come cucca un veterinario così, caspita! Non è detto, non è detto... Nel alto mare non è ancora arrivato nessuno alla soluzione del bonbono, intanto rivediamo l'immagine, ma hanno veramente fatto delle grandi interpretazioni, basta, non dico nient'altro, vi racconto invece questa bella storia. Alietto fine, non so se l'avete già sentita, allora pensate che una cassiera ritrova il suo papà, un papà, insomma, il suo papà senza tetto, dopo veramente tanti anni, per vent'anni aveva completamente perso notizie del suo papà, lei è, si chiama, allora, Shoshanan Ansley, su Tidal, infatti è... Chi è che continua a telefonarmi? Non posso rispondervi in diretta in streaming, non l'abbiamo mai fatto poi oltretutto. Ma sento già che ne parlano molto bene e sarei veramente felice se una, due, tre o anche tutto l'album diventasse veramente un qualcosa di grande per incoronare.